in questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente integralmente disponibile su parallelo 42 è una bellissima domanda circa il se il diritto si possa si crea o si scopra questo è un dibattito che risale a moltissimi anni è un dibattito che rappresenta già fra i giuristi del diritto romano cioè primi ad aver professionalizzato il nostro lavoro fare il lavoro fare il lavoro che faccio io il diritto sono vere entrambe le posizioni diritto sicuramente si scopre nella misura in cui esso nasce molto prima dei giuristi in convenzioni con suetudini sociali costumi che piano piano vengono percepiti come obbligatori dalla collettività e che i giuristi poi a un certo punto mettono in bella coppia e quindi il giurista in qualche modo scopre in questo senso con la nascita dello stato moderno della modernità giuridica e politica diciamo la costruzione delle regole giuridiche viene incamerata dal potere il quale cerca di creare diritto e lo fa però sotto il controllo in qualche misura occhiuto dei giuristi i quali mantengono un controllo di razionalità su quello che il potere fa quando il diritto c'è perché quando il diritto non c'è si arriva nella dimensione della brutta politica e della brutta diciamo tirannia per cui delle decisioni vengono prese in modo arbitrario senza avere in mente l'interesse collettivo. ha detto arma e scudo. A tal proposito in un precedente incontro sentivo il filosofo De Caro con una neuroscienziata e insomma lì dicevano del fatto che la neuroscienza ha dimostrato la quasi assenza di libero arbitrio tanto che i giuristi propongono di ripensare la teoria della pena. fai in buona fede ragionevolmente le soluzioni le puoi trovare e anche giustificare poi con delle teorie più o meno razionali e se invece sei o determinato dall'industria privata come avviene qui negli Stati Uniti rispetto alle carceri che sono privatizzate e che quindi generano ricchezza per i carcerieri che i quali a loro volta poi possono corrompere le forze di polizia possono corrompere i procuratori e quindi tutto questo porta a processi di incarcerazione massicci perché rendono moltissimi soldi e questo è un dato che c'è oppure ancor peggio come da noi quando alcune forze politiche fanno della durezza nei confronti del crimine, i famosi sindaci feriffi eccetera, tutto questo perché? Perché questo dà un ritorno politico, perché parla la pancia delle persone. Allora tutte queste cose sono esattamente l'antidiritto. Prima Mattei parlava di essere come dire vendicativi, no? Io per il mio secondo lungometraggio che si chiama La mia generazione e che è un film sugli anni di piombo e che è tutto girato in un furgone, un furgone blindato dentro il quale c'è un capitano dei carabinieri molto abile, che è un detenuto politico e che è un detenuto comuni e presentando questo film che ha sollecitato moltissime polemiche, io dicevo con molta ingenuità, moltissima, ma lo Stato non deve essere vendicativo e tutto questo ha significato molte cose anche nella mia carriera. Molto interessante, però è anche vero che lo strumento cinema veramente, quello che inizialmente era anche la tv, veramente aiuta gli esseri umani a comprendere di più la vita. Il terrorismo in Italia, il ruolo che hanno avuto gli Stati Uniti, insomma queste cose che si sanno benissimo, il ruolo che ha avuto l'eroina come modo di risolvere la contestazione di una generazione intera, sono temi di un'importanza enorme, sono assolutamente d'accordo che un film come quello che ci è stato raccontato, che purtroppo non ho visto ma che andrò certamente a vedere, spero di poter scaricare da qualche parte, ti fa riflettere. Non tutti i film sono sullo stesso livello ovviamente, i film proprio perché sono molto potenti nel fare pensare le persone, possono anche essere molto potenti nel farle non pensare e questo è un punto che voglio mettere sul piano della discussione. Infatti quelli di Vilma Labate fanno pensare profondamente. Sicuramente il cinema ha avuto dei momenti molto alti di propaganda, nel senso che per esempio Hollywood ha fatto sempre una grandissima propaganda, questo però è un argomento difficilissimo, un po' come la prima domanda che lei ha, perché è un po' come è nato prima l'uovo con la gallina. Allora, è vero, il cinema è anche propaganda, ed è una propaganda che hanno espresso molti paesi, non solo Hollywood, anche l'Europa, anche l'Europa dell'Est, assolutamente. Però è anche vero che alcuni film di propaganda sono molto belli, sono molto ben fatti. Allora, il cinema è in realtà, dovrebbe essere la ricerca libera in un territorio di libertà assoluta di un linguaggio e di uno stile. della Costituzione recita, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. L'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Gli esseri umani non sono adolescenti, né pazienti, né dati, ma cittadini come tali. L'idea sociale, che qualcuno lo condivida o non lo condivida, se è incoerente, e vado alla risposta che non ho mai risposto, cioè la prima, che cos'è la certezza del diritto. La certezza del diritto è anche una ragionevolezza del diritto stesso. Se no, diventa comportamento irrazionale e diventa proprio l'irrazionalità la ragione per cui il potere pretende di essere riconosciuto. E l'esito sulla psiche umana può essere devastante. E la follia, però, è un modo attraverso il quale il potere si legittima. Non c'è molta differenza tra un film di finzione e un documentario. Anzi, vorrei un po' esagerare e dire che non c'è assolutamente differenza. Comunque, è un film, sia il documentario che il film di finzione, dove c'è lo sguardo dell'autore. In Contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il Contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi piatorevoli interpreti.